Oggi ho incontrato un'anima. E sai Francesco, ti mi rispondo? Un'anima imprigionata. Non avete esperienza con le ragazze sulle? Vivo con loro da otto anni, ho imparato la lingua dei singoli. Come comunicare con quella piccola, confinata nella notte e nel silenzio? La mia risposta è no. Il film Mario età, dal buio alla luce, ispirato ad una storia vera. Lunedì 5 luglio alle 20.55 su TV 2000. La luce della mia vita.